Quello che è accaduto mi ha toccato, quello che amministrativamente si può fare per controllare chi detiene armi lo attiveremo. Sono le parole del sindaco di Pescara Marco Alessandrini dopo un sopralluogo insieme al questore alla polizia sulla strada Parco dove nella notte un uomo ha sparato dal balcone colpendo tre persone, una delle quali rimasta ferita. Il primo cittadino di Pescara si è detto sgomento e senza parole. C'è preoccupazione a Pescara per quanto accaduto la notte scorsa e che per poco non si è tramutato in tragedia. Le indagini sarebbero comunque ad una svolta. Nella mattinata di oggi un uomo di 45 anni è stato sentito in questura dagli inquirenti. La polizia di Pescara ha sequestrato 29 pistole e 18 carabine tutte ad aria compressa e di libera vendita. L'uomo che vive in un condominio di fronte alla strada Parco dove la notte scorsa tre persone sono rimaste ferite dopo essere state raggiunte da alcuni colpi esplosi da un'arma. L'uomo che in quegli istanti era in casa con i familiari nega ogni coinvolgimento. Verrà comunque denunciato con l'accusa di lesioni. Nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato anche un sistema ottico di puntamento. I pallini esplosi di piccole dimensioni sarebbero metallici. Nell'ambito degli accertamenti la polizia ha poi effettuato diverse perquisizioni. Sono infatti stati ispezionati tra l'altro tutti gli appartamenti dello stabile in cui risiede il 45enne e la polizia ha ascoltato numerosi testimoni anche dei palazzi vicini per cercare di ricostruire l'accaduto. Le indagini sono affidate agli uomini delle squadre mobile e volante dirette rispettivamente da Pierfrancesco Muriana e Alessandro Di Blasio. Intanto in serata le condizioni del ferito, un 44enne cinese colpito alla testa, sono migliorate.